ciao ho preparato questo video per farti vedere come faccio delle pre analisi voglio fare subito una piccola introduzione ovvero ti consiglio di farti pagare ogni singola pre analisi che esce dal tuo studio tecnico non incominciare a esporti molto sul mercato con delle pre analisi gratis perché può essere controproducente e ti puoi portare a casa delle responsabilità addirittura senza prendere un euro per cui la prima cosa che devi fare è assolutamente farti pagare qualsiasi tipo di pre analisi che vai a fare è ovvio che con alcuni clienti magari con cui hai dei rapporti particolari a livello di moli di fatturato che ti possono generare all'interno dell'anno puoi esporti facendo qualche pre analisi gratis ma soprattutto in questo momento storico dove il tempo a disposizione di chi fa questo lavoro è davvero poco e quindi vale la pena monetizzarne il più possibile deve riuscire a farle sprecando il minor tempo possibile e quindi il mio consiglio ovvero quando lo faccio io uso degli strumenti che mi permettono di fare una pre analisi che non è dettagliata al 100% ma mi permette su base analitica e di calcolo di un software di andare a capire orientativamente se poi il doppio salto di classe è effettivamente possibile oppure no in questo modo riesco a diminuire il tempo di investimento nel fare questa valutazione è ovvio che ci sono dei margini di rischio maggiori perché il calcolo non è del tutto analitico ma ci sono alcuni parametri che vengono approssimati ma una volta che si è chiarito questo col cliente e glielo si fa come favore ovviamente il tutto risulta accettabile anche perché ci si basa su un software di calcolo comunque abbastanza preciso e che lascia pochi margini d'errore è ovvio che se si è vicini al doppio salto di classe qualche errore potrebbe esserci nello specifico io quando devo fare queste ti ripeto pochissime pre analisi gratuite utilizzo questo strumento che è ci 719 di il clima che attraverso un processo di pochi clic e pochi minuti investiti da quello che è un ritorno dell'investimento un salto di classe presumibile dagli interventi appunto fatti che riesce a dare al mio cliente già un'indicazione di massima se può o meno accedere all'eco bonus del 110 per cento e con quali appunto tipi di interventi la prima parte è molto semplice ci sono i dati dell'edificio l'indirizzo i dati del committente dopodiché si va a scegliere il comune ipotizziamo bologna in automatico viene indicata qual è la zona climatica di calcolo puoi anche cambiare questi valori andando a cliccare appunto su quello che è il lucchetto ti sconsiglio di farlo questi sono dati normati sono dati standard e tu non devi fare una valutazione in diagnosi energetica devi fare una valutazione del salto di due classi in modalità standard dopodiché come per ogni software diciamo di ed il clima c'è un menu a sinistra che devi percorrere anche in questo caso andiamo sulla seconda posizione sui dati dell'edificio vedi che ti chiede qual è la forma del tuo edificio ovviamente devi inserire quella che è più simile alla forma proprio dell'edificio che stai analizzando e ti chiede se ha una casa monofamiliare un condominio un insieme di condomini eccetera ipotizziamo casa monofamiliare ed ecco che ti chiede i confini della zona riscaldata è ovvio che puoi avere dei casi limite in cui una parte magari confina con un determinato ambiente e un'altra parte con un altro ti ripeto questa è un'approssimazione è un metodo per fare un calcolo veloce che richiede 5 10 minuti proprio per riuscire a dare una preanalisi gratuita e in linea di massima quindi un'analisi appunto con un certo coefficiente di margine d'errore la cosa analitica che puoi fare quando ti viene pagata è ovviamente fare l'app pre e l'app post e andare a analizzare la differenza delle due classi energetiche bene andiamo a indicare quello che succede sul confine inferiore diciamo che è terreno i laterali diciamo che è un edificio isolato l'ombreggiamento ecco che puoi andare ad indicare se sei in centro in campagna o in periferia ti chiede anche se è un edificio con balconio dei portici in modo che lui va a valutare anche eventuali altri ombreggiamenti il confine superiore diciamo che è un sottotetto la percentuale se non la sai metti media altrimenti calcoli più o meno qual è la percentuale di area finestrata numero di piani diciamo due l'altezza netta dei locali e la superficie utile totale a questo punto ti viene proposto di fare il calcolo sull'anno di costruzione o sui consumi di combustibile il mio consiglio è sempre quello di andare ad analizzare l'anno di costruzione perché è molto più facile ed è molto più standard andare a indicare quali sono le trasmittanze delle pareti spesso il consumo del combustibile non è legato al calcolo standard di quello che è l'edificio che è invece il calcolo che devi fare per valutare il doppio salto di classe diciamo che è del 1950 puoi anche indicare se ci sono state delle opere di ristrutturazioni e in quali anni nel nostro caso non ce ne sono state ti vengono proposti degli spessori delle trasmittanze puoi andarle a cambiare perché se negli anni 50 avevi un muro in mattone pieno per esempio da 30 centimetri di trasmittanze 1 e 7 puoi assolutamente andargli a dire puoi andargli a dire quanto è il pavimento quanto è il soffitto eccetera altrimenti lui ti indica già delle trasmittanze che vengono prese da norme specifiche alcune non non in vigore altre in vigore ma che comunque fanno parte di quella che è la letteratura tecnica inerente appunto a queste questi argomenti dopodiché andiamo a indicare quello che è l'impianto quindi cosa c'è come generazione diciamo una caldaia tradizionale dopo il 96 camera stagna vedi ci sono dei menu a tendine in cui puoi andare a scegliere qual è la tipologia di caldaia installata il luogo di installazione il tipo di impianto se c'è un consumo di energia elettrica che ti consiglio di andare comunque a inserire nel momento in cui hai delle consumi ingenti di energia elettrica ovviamente se hai solo una pompa di circolazione della caldaia puoi anche ometterli o mettere pochi kilowattora insomma in questo caso lo mettiamo vedi che ti viene suggerito un rendimento di generazione a seconda dei flag che vai a mettere che ti appaiono a seconda appunto del tipo di generatore che hai scelto puoi sbloccare andare a inserire quello che ritieni più opportuno come rendimento io ti consiglio di lasciare quello indicato su edilclima stessa cosa puoi andare a dire qual è la tipologia di emissione che hai quindi pannelli radianti radiatori termocombettori eccetera la regolazione nel nostro caso ipotizziamo ci sia un termostato di zona più una sonda climatica esterna e il tipo di distribuzione quindi edificio singolo tubazioni a collettori discreto ed ecco che ti viene proposto appunto quello che è il rendimento di distribuzione stimato stessa cosa sull'acqua calda sanitaria dove ti vengono proposti anche qui alcuni dati di default che io lascio sempre così la produzione dell'acqua calda sanitaria è combinata con riscaldamento se metti sì ecco che vengono già presi in in esame i dati che ha inserito prima no puoi andare ad inserire quello che è il generatore dedicato alla sola acqua calda sanitaria nel nostro caso mettiamo sì ed ecco che hai già finito l'inserimento dei dati a questo punto puoi andare a vedere i risultati dell'involucro che puoi anche andare a rendere modificabili se c'è qualcosa che non ti torna ma sono tutti i dati presi da quello che hai inserito prima ma ovviamente se qui tu hai delle zone che hanno confini particolari potresti anche andare a modificare le superfici totali e a questo punto lui sulla base delle trasmittanze che gli hai dato andrebbe ad aggiornare quelli che sono i dati delle dispersioni eccetera qui sono i dati dell'energia primaria quindi sulla base di tutti i rendimenti impiantistici che hai inserito ed ecco che ti viene suggerita la classificazione energetica a questo punto cosa devi fare puoi andare ad indicare quali sono gli interventi che vuoi fare ipotizziamo per semplicità che il tuo cliente voglia fare la coibentazione a cappotto delle pareti perimetrali vedi che ti viene suggerito che dalla classe g si passa solo alla classe f in questo caso potresti dire vado anche a coibentare il soffitto verso sottotetto ed ecco che in questo caso vedi che ti viene data l'indicazione che riesci a fare il salto di due classi energetiche mentre con solo uno dei due interventi no l'altra cosa che ti voglio dire è che è possibile rendere modificabili anche le trasmittanze della nuova parete che si ha andando a installare il cappotto o del nuovo solaio che si avrà andando a installare l'isolamento della copertura a questo punto puoi inserire dei valori riferiti magari ai nuovi decreti in questa in questa colonna e lui andrà ad aggiornare i dati di calcolo vediamo che per esempio andando a migliorare la parete esterna non si riesce comunque a scalare la seconda classe quindi in ogni caso lasciamo 0 23 in questo caso andiamo a coibentare anche il solaio verso sottotetto e riusciamo appunto come ti dicevo prima a scalare il doppio salto di classe è possibile anche attraverso la calcolatrice andare a dire che la coibentazione delle pareti perimetrali esterne verrà fatta per il 50 per cento a questo punto vedi che verrà aggiornato nuovamente il calcolo che prenderà in esame il fatto che non hai coibentato il 100 per cento della parete perimetrale esterna torniamo nel nostro caso precedente andiamo a dire bene quanto costa questa coibentazione a cappotto gli mettiamo 45 mila euro è un numero buttato lì a caso quindi non prenderlo come riferimento la coibentazione del sottotetto mettiamo 4000 euro a questo punto cosa succede che andando in incentivi fiscali ti viene fatto un business plan e ti viene indicato qual è il tempo di ritorno e ti viene graficato inoltre ti vengono dati già delle indicazioni sul fatto se è possibile o meno accedere al super bonus del 110 per cento con quegli interventi qual è la durata dell'incentivo e quanto si porta a casa ogni anno il tuo cliente è ovvio che anche in questo caso puoi personalizzare le impostazioni dire guarda il mio cliente non farà il super bonus ma magari farà il bonus facciate che ha una durata quindi che ti viene aggiornato in automatico di 10 anni ed ecco che il business plan comunque viene completamente aggiornato diciamo che non lo rendiamo automatico e teniamo tutto questo qui ti vengono ti appaiono in giallo gli interventi che hai deciso di fare in grigio gli interventi che sui quali hai deciso di non intervenire appunto gli elementi su cui hai deciso di non intervenire e sostanzialmente viene appunto dato come output questo business plan e il fatto se si riesce o meno a scalare le due classi energetiche quindi ti ripeto tutte le preanalisi fattele pagare se hai bisogno di uno strumento facile veloce e che in pochi minuti ti riesca a dare un'indicazione se il tuo intervento può o meno accedere all'eco bonus questo è uno strumento che io utilizzo e che mi sento di consigliarti nel momento in cui devi fare qualcosa di molto veloce spero che questo video ti sia stato utile l'ho fatto permettere a tua disposizione anche proprio degli strumenti tecnologici che io utilizzo tutti i giorni nella mia attività professionale ovviamente se vuoi approfondire tutti i temi legati all'eco bonus del 110 per cento quindi tutte le pratiche che devi saper fare per riuscire a essere anche tu attore protagonista di questo stravolgimento del mercato edile e vuoi anche tu riuscire a godere di questo momento storico per crescere le tue competenze e a crescere anche il tuo fatturato beh allora ti consiglio di cliccare sul link che lascio in calce a questo video per poter richiedere maggiori informazioni Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!